Sono Mauro Capelletti, Ordine ai medici di Alessandria. La burocrazia è spesso di tempi lunghi. Con una donazione puoi contribuire a dotare gli operatori di pronto soccorso e delle reanimazioni dei dispositivi di protezione di cui spesso c'è carenza, specialmente nelle ultime ore. Possiamo contribuire tutti per risolvere questo problema.